Au, io al condizionatore mo' v'ho montato Adesso dovete seguire la regola dei 5 gradi, ok? Eh, ma con sto caldo lo impostamo per forza a 5 gradi Ma al minimo per legge non è a 16 gradi Ma che siete matti? Dovete rispettare la regola dei 5 gradi Da dentro a fuori Se fuori fa 3, dovete sta a 25, punto Questa è la più grande cazzata dopo quella della scelta tra il condizionatore e la pace Au, eppure lo dicono tutti gli esperti Se volete risparmiare sui consumi e se volete evitare bronchite e torcicollo Dovete seguire la regola dei 5 gradi E quindi se fuori sta a 41 gradi, qua dentro a che temperatura dovemo stare? Secondo gli esperti dicono a 36 Eh, io arzo E quando ci arriva a 36? Ah no no, allora smonta tutto, non ci abbiamo più bisogno del condizionatore E perché? Perché a sto punto noi ce nemmo direttamente i termosifoni Oh, mo' si Sì, sì, rismontamo tutto Rismontamo tutto e via Allora 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 Allora